Sai qual è la principale caratteristica ricercata dalle persone quando si vuole acquistare un frigorifero nuovo? Secondo alcune ricerche, per l'83% è fondamentale che conservi la freschezza degli alimenti più a lungo possibile, come appena comprati. Può sembrare banale, ma non lo è. Infatti la chiave per una conservazione ottimale e duratura dei cibi freschi, come frutta e verdura, è l'omogeneità della temperatura in tutti i livelli del frigorifero, un parametro non sempre facile da raggiungere. Proprio quello che, invece, garantisce l'evoluta tecnologia di raffreddamento Aeroflow dei frigoriferi combinati Beko Beyond. Un risultato che si raggiunge grazie a una distribuzione uniforme dell'aria fredda in tutti i ripiani, con fluttuazioni di temperatura minime. In pratica Aeroflow avvolge e protegge i tuoi alimenti freschi grazie a una distribuzione delicata dell'aria fredda, garantendo l'uniformità di temperatura su tutto il ripiano, oltre che in tutti i livelli del vano frigo. Questo vuol dire che i cibi più fragili non subiscono shock termici, in questo modo possono arrivare a conservare la propria naturale freschezza fino al 30% più a lungo, con il 20% di disidratazione in meno, mantenendosi più succosi e ricchi di acqua, come certificato dai laboratori Intertech. Sai cosa significa questo? Fragole e pomodori succosi e colorati più a lungo, formaggi freschi morbidi più a lungo, carote e insalate fragranti e croccanti e molti altri tipi di alimenti facilmente deperibili che manterranno più a lungo le proprie caratteristiche organolettiche e così potrai ridurre alla grande gli sprechi alimentari e di denaro. Frigoriferi Beko Beyond con Aeroflow, la tecnologia di ultima generazione che assicura una freschezza duratura del cibo per combattere lo spreco alimentare.